Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi mette tutti a tacere, è suo il fisico più hot Alessia Marcuzzi non smette di far parlare di sé e ogni scatto pubblicato sul suo profilo Instagram è un tripudio di like e di commenti entusiasti da parte dei follower la più sexy delle mamme. Non sono tante le donne che a quasi 45 anni possono vantare il fisico della bella showgirl televisiva, e Alessia ci tiene a ribadirlo con numerosi selfie e foto che mettono in mostra le sue forme perfette In questi giorni, la bionda conduttrice televisiva è a Londra, dove si è recata per partecipare alle sfilate della London Fashion Week Nello scatto pubblicato su Instagram la vediamo proprio mentre è intenta ad attraversare una delle strade londinesi per partecipare alla sfilata di Versus Versace, con un look super trendy Alessia indossa un vestitino nero cortissimo a maniche lunghe con una stampa colorata sul davanti e degli stivali alti sopra al ginocchio con tacchi a spillo, che le fasciano le sensualissime e famosissime gambe In uno scatto successivo, la Marcuzzi è ritratta seduta con Ale Franciotti autore della foto precedente e il suo hair stylist Alessia dimostra quasi la metà dei suoi anni, anche grazie alla forma smagliante che si ritrova e che quest'estate ha fatto letteralmente impazzire i fan, con le foto in bikini mozzafiato pubblicate su social La conduttrice è mamma di Tommaso, 16 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 5, nata dalla relazione con Francesco Focchinetti Alessia ha mantenuto un ottimo rapporto con entrambi i suoi ex compagni, anche se adesso è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi Le accuse da parte dei follower L'esuberante showgirl è stata recentemente contestata dai follower, che l'accusano di essere troppo magra, ai limiti dell'anoressia Alessia si è dovuta difendere pubblicamente, mettendo a tacere una volta per tutte le accuse infondate sul suo aspetto fisico La bella conduttrice tv ha detto di non seguire diete e di non aver mai avuto la bilancia a casa, sono più grande di tante ragazze che mi scrivono e quindi devo spiegare loro che la magrezza dipende dal tipo di vita, dal metabolismo e dalla costituzione, non per forza da una dieta Dirò di più, ci sono periodi in cui dimagrisco molto e faccio fatica a ingrassare, quando presento una trasmissione per esempio, e non mi piaccio neanche io Ho il viso magro e si vedono di più gli anni se mi sciuppo troppo. Il mio soprannome sui set dove lavoro è carboidrato Con questa risposta, Alessia ha dimostrato di essere una donna molto attenta al suo ruolo e ai messaggi che possono arrivare al pubblico, la showgirl ha da poco raggiunto i 3 milioni di follower sul proprio profilo Instagram e i suoi post sono tra i più commentati su social Alessia Marcuzzi è lantesignana di tante starlette che adesso si improvvisano web influencer e trendsetter, infatti con il suo blog Lapinella dà consigli di moda e di stile alle ragazze di tutto il mondo molto prima che esplodessero le fashion blogger e le influencer di oggi Alessia Marcuzzi è lantesignana di tante starlette, infatti con il nostro corso gratuito